La Commissione sarà riunita il prossimo 8 marzo. Oltre all'assessore allo sport Marco Galli, convocati anche i colleghi di giunta Adriano Caldara, Bilancio e Pierangelo Gervasoni, i lavori pubblici e i relativi dirigenti. Al centro è noto c'è la piscina di Muggiò. I dettagli sono stati annunciati oggi dal presidente della Commissione stessa, il consigliere di Forza Italia Luca Biondi. Ho chiesto la presenza di tutti per avere allo stesso tavolo le figure e le competenze necessarie a rispondere sulle questioni legate all'impianto, ha detto. La convocazione è stata richiesta per avere chiarimenti e aggiornamenti sullo stato di fatto e sulla cronistoria della problematica relativa alla chiusura della piscina. Così si legge nel documento inviato alla presidente del Consiglio Comunale di Como, Anna Veronelli, e appunto al presidente della Commissione consigliare che riguarda l'assetto del territorio, ambiente, ecologia, lavori pubblici, trasporti e mobilità. A richiedere la Commissione sulla struttura, chiusa ormai da oltre un anno e mezzo, sono stati gli stessi membri Mario Gorla, indipendente nella lista di Fratelli d'Italia, primo firmatario, Gabriele Guarisco, consigliere del Partito Democratico, Guido Rovi, capogruppo di Civitas e Elena Maspero di Insieme per l'Andrescina. Era necessario arrivare ad una commissione in questo momento così delicato e confuso, ha detto Gorla al Corriere di Como, non per guardare alle responsabilità del passato, ma per ragionare sul futuro. Una svolta sulla delicata questione che riguarda l'impianto natatorio di Muggio potrebbe però arrivare a marzo. Il prossimo mese, infatti, è attesa la valutazione finanziaria sul progetto presentato dai privati. Una volta ottenuto il documento, l'amministrazione dovrà poi scegliere tra la perizia redata da un pool di professionisti che hanno individuato i lavori più urgenti da fare per riaprire la piscina per una spesa complessiva di circa un milione di euro e dall'altra invece il progetto della società Nessi Maiocchi con una proposta di parternariato pubblico-privato per rifarla ex novo.